Ben trovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, partiamo prima dal movimento delle alte e basse pressioni a livello europeo. Possiamo notare l'Italia interessata dall'alta pressione che poi si estende verso est, verso tutta l'Europa orientale, più ad ovest invece tra il Portogallo, la Spagna e le isole britanniche una circolazione di bassa pressione, quindi una perturbazione atlantica. Gli sviluppi sull'Italia con l'alta pressione che ancora atterrà i suoi massimi sulle nostre regioni, una giornata di cieli sereni o poco volosi, al più transiteranno delle innocue velature o stratificazioni, sono quelle nubi alte oltre i 7 km di altezza che non apportano precipitazioni. In sintesi quindi la mappa dell'Italia con tanto sole a interessare tutte le nostre regioni, un po' freddo di notte al centro-nord massime diffusamente tra i 13 e i 18 gradi, valori quindi di giorno primaverili. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.